Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati a tutti, cari telespettatori, questa è la rassegna stampa di Fano TV sul canale 17, occhio ai giornali che come tutte le mattine comincia con il santo di oggi, ci stiamo avvicinando al 25 di dicembre, quindi il Natale, oggi è il Beato Vincenzo Romano, uno tra i tanti che abbiamo scelto perché sapete che il martiriologio è pieno di santi, di beati e oggi ogni tanto ne scegliamo uno e questo è il Beato Vincenzo Romano. Il tempo, il sole è sorto alle 7.38 e tramonterà alle 16.34, il tempo oggi c'è cielo nuvoloso con nuvole stratiformi, abbiamo delle precipitazioni deboli intermittenti più probabili nelle zone interne nella prima parte della giornata, lungo la costa invece nel corso della seconda. Le temperature sono in aumento in particolare nei valori minimi per domani, mercoledì 21 di dicembre, cielo nuvoloso, ancora rovesci sparsi lungo la fascia costiera, maggiormente sporadici nelle zone interne, in progressivo esaurimento dal pomeriggio, le temperature sono stazionarie. Poi giovedì vedete il tempo è bello su tutta la regione, in particolare lungo la costa, attenzione alle foschie e banchi di nebbia nelle ore più fredde della giornata. Condizioni stabili per il resto della settimana, probabilmente anche per Natale insomma. Allora adesso invece cominciamo con le parole del Ministro Poletti, che ieri è giunto a Fano, ha fatto un tour Fano-Pesero, ma è a Fano che ha detto una frase che ha fatto arrabbiare un sacco di gente. Ministro Poletti quindi nella bufera per le parole sulla fuga dei cervelli. E allora, giovani in fuga stanno bene dove sono, così più o meno sintetizzando con il titolo del resto del Carlino ha detto appunto il Ministro Poletti, mentre lo vedete nella fotografia era al pesce azzurro di Fano. Poletti senza freni, poi comunque in serata si scusa, ma è comunque polemica. E lui ha tentato di spiegare, ma diciamolo meglio, i giovani italiani vanno all'estero. Lei cosa risponde, Ministro? Io conosco i giovani che è bene che rimangano dove sono andati. Il nostro Paese non soffrirà a non averli più tra i piedi. È una dichiarazione che anche ieri sera vi abbiamo fatto vedere nel nostro telegiornale, l'ha detta proprio di fronte alle nostre telecamere. È una dichiarazione che, se volete, potrete riascoltare esattamente così come l'ha pronunciata anche nella replica delle 13 e 45 di oggi oppure alle 11 del mattino, oppure su internet. La spiegazione, dicevo, non è che, dice Poletti, il Ministro, non è che gli altri milioni che restano in Italia di giovani sono tutti dei pistola. Ha voluto in qualche modo salvaguardare, proteggere, tra virgolette, quelli che stanno qui e che decidono di rimanere qua. In realtà poi la top è stata peggiore del buco. Piovono richieste di dimissioni, ci va da lei fuori dai piedi, dice Remigio Ceroni, che è il senatore di Forza Italia. Dopo una frase così infelice, l'unica via d'uscita dignitosa sarebbero le dimissioni. Questa è la pagina del resto del Carlino. Mentre sempre su questa gaff c'è anche la pagina in primo piano del Corriere Adriatico. Eccola qui, il giorno caldo di Poletti, tra gaff e scuse, carezze ai precari e schiaffi ai giovani. Il Ministro è in visita a Pesero e Fano, 100 mila in fuga, bene, alcuni non più tra i piedi. Poi rettifica. Nel tour di incontri con gli imprenditori di Riva Cold, Centro Service e Gambini Meccanica della Team System. Insomma è stata una giornata piuttosto calda per il Ministro, tra carezze ai 40 precari dei job e schiaffi ai giovani italiani emigrati all'estero e visite ad alcune eccellenze imprenditoriali del territorio. Andiamo avanti, torniamo sul resto del Carlino. Perché Amerigo Varotti, che è il presidente del COF Commercio di Pesero Urbino, ha detto che il Comune di Fano ha fatto bene ad uscire dalla Notte Rosa. La Notte Rosa è una manifestazione tipicamente romagnola, non porta granché alle nostre casse, non è una cosa che interessa moltissimo. Però il Comune di Fano ha fatto bene ad uscirne. E quindi la Notte Rosa a Fano il prossimo anno non sarà nel cartello delle manifestazioni. Mentre Pesero ha detto, manda dire o dice attraverso il giornale questa mattina, dice l'assessore Vimini, Pesero resterà insieme alla Notte Rosa. Perché? Perché per la Notte Rosa, dice l'assessore, i soldi sono ben spesi. Ci fa guadagnare dieci volte tanto. Vimini replica Varotti, il tavolo non è il muro di Berlino. Non ha senso tornare indietro, i risultati ci sono e sono sotto gli occhi di tutti. Mentre il direttore di Confcommercio, come dicevo, ha accusato il Comune di Pesero di accodarsi alla Romagna. Pensate che nel 2016 il Comune di Pesero ha versato 75 mila euro solo per iscriversi all'evento. Poi ci sono le spese per l'iniziativa in programma e per Vimini. Sono soldi spesi bene. Prossime votazioni in provincia. Si cambia il Consiglio. Rieccolo, Ucchielli in provincia. L'istone è unico PD Forza Italia per il rinnovo delle cariche. Non ci sono alternative. La lista è unica e quella per cui i candidati saranno poi quelli che effettivamente saranno certi nelle elezioni. Quindi saranno candidati certi. Ci sono tutti i nomi. Ci sono tutti i nomi di quelli che sono appunto i candidati. Ci sono alcuni sindaci tra questi candidati. Fano, per esempio. Fano ha candidato il Consigliere del Comune Enrico Nicolelli. Mentre, come dicevo, c'è Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia. Poi ci sono anche altri sindaci. I candidati, esattamente divisi a metà tra sinistra e destra, eletti l'8 di gennaio. Sotto sterilizziamo i cinghiali con i bocconi. Sparirebbero il delegato Danilo Baldini. Lancia la proposta farmacologica. Oggi l'autopsia sul cacciatore. Nessun politico però accetterà perché non vanno mai contro i cinghialai. Oggi ci sarà l'autopsia sul corpo di Rolando Caimmi, il cacciatore di 62 anni di Pianello di Cagli, morto di sanguato per la carica di un cinghiale ferito. La pagina di Fano del resto del Carlino è sul Veglione di Capodanno. Veglione per tutti, anche per gli animali, anche per Fido. Infatti quest'anno, così come è successo l'anno scorso, l'ultimo dell'anno non ci saranno i botti in piazza. Si balla, si ride a teatro con il San Costanzo Show. Sul palco gli 88 Folli, folk band che ha collaborato con Piotta e Modena City Rambles. Questa è la prima pagina. Poi ci sono altre notizie in breve sulla pagina di Fano del Carlino. Se Babbo Natale è anche sindaco, se è rialetto le letterine dei bambini. I soldi dell'Europa per Romanità e Porto ci sono. Ci sono dei progetti che sono stati avviati per 3 milioni di euro. ci sono progetti dunque già finanziati e questo che vedete nella fotografia è il gruppo di lavoro dove c'è Ivan Antoniozzi, Davide Frulla, Grazia Mosciatti e Paola Stolfa. Il gruppo di lavoro è l'ufficio Europa che ha istituito il Comune di Fano e che ieri mattina ha presentato un po' i vari progetti e le prospettive per il prossimo anno. Mentre gli uffici dell'Agenzia delle Entrate che si trova in via Fanella resteranno in città. Nella fotografia c'è questo patto firmato, questo accordo tra il Vescovo Armando Trasarti, Carmelo Rau e Federico Talè, consigliere regionale. Perché? Perché chiaramente uno dice perché c'è il Vescovo, perché gli uffici stanno in affitto negli ambienti che sono di proprietà della diocesi. Malore al volante, muore un anziano, l'auto si schianta davanti all'asilo, tragedia sfiorata per una mamma e i suoi gemellini, è successo a Dorciano, erano le 4 di ieri pomeriggio quando appunto questa persona è stata accolta da Malore mentre era al volante della sua auto che a un certo punto inevitabilmente ha perso il controllo ed è piombata su un marciapiede davanti all'asilo urtando un'auto di servizio della scuola dell'infanzia finendo poi sul muro di cinta del Plesso a pochi centimetri da due gemellini di 5 anni che stavano uscendo con la loro mamma. Per fortuna poi insomma si è evitata la tragedia. Cambiamo giornale adesso, torniamo sul Corriere Adriatico, velocemente la prima pagina, eccola qua, si parla dei palazzi, siamo sul Corriere Adriatico, dei palazzi, quelli vuoti a Pesaro. Effetto domino per gli ex, cantiere nel vecchio tribunale. Il 2017 dovrebbe essere l'anno giusto per dare una svolta ai contenitori vuoti del centro storico, in particolare per quanto riguarda l'ex tribunale e il San Domenico, i cui destini sono legati uno all'altro, considerato che sono stati inseriti nell'operazione dei fondi ottenuti con il bando. dell'Inail. A centropagine invece sull'autobus salgono tagli e biglietti più cari, la regione tratta con le aziende e i sindacati incalzano tutelare, vanno tutelati i pendolari. A Erdorica arrivano i soldi per pagare gli stipendi. La pagina di Fano, Carnevale e Gez, l'Europa paga. Il nuovo ufficio comunale in un anno è riuscito a intercettare 2 milioni e mezzo per tre progetti, fondi anche per il brodetto. Prossime priorità, recupero del teatro romano, una pista ciclabile e il porto. La dirigente Mosciatti dice il nucleo composto da Antognozzi e Frulla sarà presto ampliato. E sotto invece capodanno, tra musica, risate e nevicate artificiali, è stato presentato il programma degli eventi in piazza, piazza 20 settembre e del San Costanzo Show. Ancora, l'Africa Chiama, la città, seminiamo per gli altri, nuova raccolta fondi e regali per l'organizzazione fanese che si trova sempre in prima linea per aiutare i bambini dell'Africa. In vasca invece per aiutare la ricerca, Teleton, anche Seri, il sindaco si tuffa con il campione Ruffini, campioni, atleti, bambini e politici hanno risposto così all'appello di Teleton. L'iniziativa alla piscina di Nisalvalai durata 48 ore, domenica spazio ai cuori di cioccolato. E poi dal Val Cesano, auto in fiamme, si teme il dolo, il rogo a mezzanotte davanti alla casa della proprietaria, siamo a San Lorenzo in campo, paura per le bombole di metano, videocamere al setaccio, nuovi atti vandalici sul territorio, svastiche sui segnali stradali a Torre San Marco e scritte sul monumento del Nino. Ordigni bellici ritrovati invece a San Costanzo, in Summit, un incontro il 18 di gennaio, una bomba sarà fatta esplodere nella cava, ma la seconda verrà fatta brillare invece sul posto. Le gaffe, le accuse, le abbiamo viste del Ministro Poletti, quindi non c'è altro, la nostra segna stampa si chiude qui, tornerà domani mattina alle 7.30, vi ricordo questa sera invece l'appuntamento con il nostro telegiornale Occhio alla Notizia, all'interno del quale c'è anche il concorso dei presepi, ieri c'era lo sport, eravamo già abbastanza lunghi, quindi non l'abbiamo mandato in onda, ma da questa sera torna lo spazio dedicato ai presepi, quindi mandateci pure le vostre fotografie, fatelo adesso, insomma, mandateci le vostre foto, almeno tre di cui una con il colui o con lei che ha realizzato l'opera, oppure un video non più di 30 secondi. Poi tutto a presepi-fanotv.it Buona giornata e arrivederci.